Un po' ai fantasmi ci credo, a Napoli poi addirittura è meraviglioso, quando facevamo i sopralluoghi e andavamo a vedere questi vecchi palazzi, il padrone di casa quando entrava, buonasera, salutava i fantasmi, oppure quando vanno a mio, ciao ciao, salutano, perché c'è un bonaciello, c'è una cultura proprio in questo, ecco perché abbiamo citato a Napoli. Cristiano, hai detto che credi ai fantasmi, ma hai mai incontrato o sentito magari un fantasma, magari l'hai mai chiuso in un barattolo? No, non l'ho chiuso in un barattolo, però alcune presenze le sento, ogni tanto le sento, però i fantasmi sono simpatici, non sono mica antipatici. E questa svolta esoterica nel tuo cinema come è accaduto? Ma così appunto, volevo fare questo film sull'horror e allora abbiamo scelto questo soggetto e devo dire che se dovesse avere successo, quindi crociamo le dita, perché no tornare a fare il genere? Che ormai in Italia si fanno soltanto commediole, due camera e cucina, invece fare un film del genere si ritornerebbe a fare come si faceva una volta. Perché ad esempio io nel film mi chiamo Vittorio Di Paola, ex giocatore, donnaiolo e ci sono anche dei richiami ai vecchi film di papà, perché ad esempio la signora Cucurullo era interpretata nell'oro di Napoli da Tecla Scadano, io l'ho ripescata parapara, l'ho rimessa dentro. Oppure Gullotta quando fa quelle citazioni che vada a qualsiasi persona che entra al funerale e dice ha visto che disgrazia, che dolore, una chiese distrutta e parla in bilignao. Lo faceva Marcello Mostroianni in matrimoniale italiana, quindi insomma ci sono proprio dei richiami a quel genere di film, che è giusto che sia così. Sto maggio appunto a papà Vittorio, no? Non solo si chiama Vittorio tuo padre, ma tu sei proprio identico. Più di una persona che ha visto il film ha detto ma lo sai che alla fine mi sono anche commosso, perché è pieno di tenerezza. Infatti il film diventa in bianco e nero quando vedo mio padre. Ma così dovrebbero essere i film. Infatti questo vi voglio dire al pubblico, insomma con un biglietto solo se ne vedono tre, perché è horror, è commedia ed è pure romantico, quindi che vuoi di più della vita? Poi voglio dire il personaggio di questo padre che è stato un incosciente, che ha avuto tre figli da tre madri diverse, che non se ne è curato, alla fine invece riunirà questi fratelli che non neanche se conoscono, perché uno viva a Milano, l'altro a Roma e l'altro a Napoli e poi alla fine grazie al padre riusciranno a essere uniti. È stata una scommessa perché in Italia un horror comedy non si fa, si fanno le commedie. Io poi ho sempre fatto la farsa o la commedia, quindi l'horror comedy non sapevo se... Adesso bisogna vedere col pubblico se piacerà. Io penso di sì e devo dire che l'aiuto che mi ha dato Brando a mio figlio è stato enorme, anche perché in questo caso si può dire che non è il padre che aiuta il figlio, ma il figlio che aiuta il padre. Anche perché lui ha una conoscenza dell'horror enorme e quindi ad esempio nel sound design mi ha aiutato tantissimo, nella recitazione anche degli attori. Io ci siamo divisi i compiti, io mi sono occupato della sceneggiatura, alla mattina discutevamo le inquadrature, poi lui faceva i movimenti di macchina, insomma è stato un grosso aiuto. Penso che siamo riusciti. La cosa più difficile era combaciare i due generi, perché insomma mettere paura e poi far ridere non è facile. Ma grazie anche all'apporto di questi attori a tutto tondo, che c'erano da cominciare da Carlo Bucci Rosso, a Gianmarco Tognazzi, ai Poli Dabaldini che fa la moglie di Bucci Rosso, a Nadia Rinaldi, a Leo Cullotta, a Gianni Parisi. Se non avessi avuto questi attori completi, ma avessi avuto soltanto dei comici, forse non si sarebbe riusciti a far andare bene questo film. Quando mi dicono Ghostbuster, italiano, no, non è Ghostbuster. Se hai Ghostbuster, tu non puoi competere con i blockbuster americani, perché noi facciamo i film con due stuzzicadenti e un fil di ferro. Quindi c'erano i milioni, quindi riuscire a essere credibili, divertenti, interessanti, anche paurosi. Noi veramente l'abbiamo fatto con pochi soldi, si vedono tutti. Che è la soddisfazione, perché questo film lo volevo fare così, lo volevo fare a Napoli. Volevo rappresentare una Napoli, basta, con sta camorra, sempre da Napoli nera. C'è anche una Napoli meravigliosa, quella di Benedetto Croce, di Sabato di Giacomo, di Edoardo, di Peppino, di Totò, di Osole mio, del Golfo di Napoli. Rappresentiamo, a parte i fantasmi, dove a Napoli ce ne sono più che a Londra, però c'è anche una Napoli meravigliosa. Questo è stato anche un grosso aiuto.